Ciao bambini, adesso vediamo insieme il quiz sulla simmetria interna e l'altro quiz sulla simmetria esterna. Innanzitutto come dovete risolverlo? Voi guardate la fotografia che vi ho inviato con le varie proposte, le otto proposte di simmetria interna. Sul quaderno, proprio come facevamo a scuola, scrivete quiz simmetria interna, numerate da 1 fino a 8 e poi guardando la fotografia con le varie proposte rispondete sì, no, sì, 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 no, sì, no, queste ovviamente sono le risposte esatte. Controllate che le vostre risposte corrispondono a quelle che ho scritto qua io in correzione. La stessa cosa per il quiz simmetria esterna. Numerate da 1 a 8, date le vostre risposte e controllate che siano uguali alle mie. Adesso andiamo a vedere però perché abbiamo risposto sì oppure no. Cominciamo dalla simmetria interna. Questa è una simmetria interna perché l'asse divide la figura in due parti uguali che se sovrappongo coincidono. La stessa cosa non la posso dire per la seconda. Se io immagino di piegare la parte sopra sulla parte sotto non coincidono perché la parte sotto non ha questa punta. Quindi questa non è una simmetria interna. Qui invece sì, abbiamo una simmetria interna. Immaginate come prima di piegare le due parti coincidono. Infatti se contate questa punta dista 1, 2, 3, 4 quadretti proprio come questa punta che dista 1, 2, 3, 4 quadretti. Lo stesso lo potete verificare per tutte le altre punte. Anche il numero 4 è una simmetria interna. Piegando le due parti coincidono. Infatti abbiamo 3 quadretti a sinistra, 3 quadretti a destra e lo stesso lo potete verificare. Anche qui si vede facilmente che è una simmetria interna la numero 5 in quanto queste due punte piegandole vanno a coincidere. Distano 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 quadretti entrambi dall'asse di simmetria. Qua invece assolutamente non è una simmetria interna. Non è divisa neanche in due parti uguali. Qui invece ci troviamo di nuovo di fronte a una simmetria interna. Piegandole le due parti coincidono. Questa invece no. Non abbiamo due parti uguali quindi non è una simmetria interna. Passiamo alla simmetria esterna. Non è una simmetria esterna questa in quanto la figura non è stata ribaltata. È solo stata ricopiata uguale dall'altra parte ma non ribaltata. Se voi le piegate una sull'altra non coincidono. Questa invece sembra una simmetria esterna ma dobbiamo controllare. Verifichiamo se sono alla stessa distanza. 1, 2, 3 quadretti. 1, 2, 3 quadretti. Allora sì, è una simmetria esterna. Questa invece sembrerebbe una simmetria esterna ma non lo è in quanto la figura di sinistra dista solo un quadretto mentre quella di destra ne dista 3 quindi non è una simmetria esterna. Lo è invece questa figura strana perché dista le punte, distano sempre lo stesso numero di quadretti dall'asse di simmetria. E ora passiamo invece a una simmetria esterna con asse orizzontale. La figura 5 è simmetrica in quanto quella sopra si ribalta perfettamente su quella sotto. Entrambe distano due quadretti dall'asse di simmetria. Non lo è la figura 6 perché come nel primo esempio che abbiamo visto qui non è stata ribaltata la figura è solo stata ricopiata sotto. Quindi questa non è una simmetria esterna. Non lo è neanche la 7 in quanto i triangoli non sono esattamente opposti. Se voi guardate la punta del triangolo sotto è spostata di un quadretto rispetto alla punta del triangolo sopra. Quindi non è una simmetria esterna. E invece l'ultima figura è una simmetria esterna. Ciao bambini! Ciao bambini!